A Dimitri, nelle elezioni precedenti a quelle in cui si è affermata Siriza, c'era stata una grossa affermazione della destra, come sta accadendo in quasi tutti i paesi d'Europa. Come ti spieghi poi che invece adesso il Presidente del Consiglio sia appunto il leader di una formazione di sinistra, se vogliamo, radicale? Beh, sono due fenomeni diversi. È la crisi del vecchio sistema politico, dei due partiti che si sono alternati per una quarantina d'anni in Grecia, quindi a centrodestra, nuova democrazia, sinistra e socialisti del PASOC, sono crollati, gli elettori di destra, alcuni elettori di destra hanno scelto la via dell'estrema destra, anzi del partito dichiaratamente ed esplicitamente nazista, gli elettori di centrosinistra invece hanno privilegiato Siriza. Sono due scelte di tipo diverso ma tutte e due contrassegnate dal segno della crisi del sistema politico provocato dalla crisi economica. Sostanzialmente grandi eventi e grandi manovre economiche possono portare alla rovina di un paese? Sì, sicuramente investire il PIL di un paese nei lavori pubblici, nell'edilizia come è stata un po' la ricetta che si è seguito nella seconda metà degli anni 90 e nella prima metà del decennio precedente non è una buona ricetta. Nel caso greco ci sono state anche delle aggravanti di tipo doloso da parte dell'allora governo socialista perché come dicevo prima non c'è stata alcuna informazione su che cosa significasse poi concretamente per l'economia greca entrare in Europa, quali vincoli c'erano per rimanere nell'eurozona e in più anche l'ingresso stesso è avvenuto in maniera truffaldina perché come sappiamo una buona parte del debito è stato trasformato in derivati dalla Goldman Sachs e quindi effettivamente né il debito né il deficit erano quelli che erano richiesti dall'Unione Europea. Il programma elettorale di Tsipras e di Siriza è estremamente affascinante però questo programma si è già dovuto scontrare con la realtà delle istituzioni come appunto lo chiama il premier che poi sarebbero la troica. Come pensi che Siriza e Tsipras supereranno questo impasse e pensi che l'opinione pubblica potrebbe abbandonare Tsipras dopo che sostanzialmente sarà costretto a non poter rispettare interamente il programma elettorale? No, non penso che sarà costretto a non rispettare integralmente il suo programma elettorale, io penso che il suo programma elettorale subirà dei ritardi, anzi sta già subendo dei ritardi ma alla fine sarà vincitore in questo braccio di ferro negoziale senza sbattere i pugni sul tavolo, senza strillare però la ragione dalla sua parte lui ha la forza morale di sostenere una grande verità che la ricetta dell'austerità è fallita, è fallita totalmente per cui bisogna cambiare strada, con lui anche altri governi europei attuali e ancora di più governi futuri sono dalla sua parte per cui io credo che sia il coltello dalla parte del manico di Tsipras e non invece dei sostenitori dell'austerità in Europa. Quindi sfidarla all'Europa si può? Certo che si può sfidare l'Europa ed è se la vittoria di Tsipras in Grecia ha un valore per tutti i paesi europei, per tutti i paesi indebitati d'Europa è esattamente questo, cioè che c'è alternativa, è possibile sfidare questa politica e bisogna tutti quanti insieme a livello europeo metterci sul tavolo a vedere qual è effettivamente la via dello sviluppo e della creazione di nuovi posti di lavoro, che questo in effetti ancora la ricetta non ce l'ha pronta in tasca, bisogna che la troviamo noi europei tutti quanti insieme. Grazie 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 Grazie